azione si va a gradara A presto! Ma c'è un campanello qualcosa per questo? Ma c'è un cancello Oh c'è pure una sdraglia Oh che campanaccio Sono C'è un campanello Ho suonato C'è un campanello? C'è un campanello? C'è un campanello? Grazie a tutti. Che ne dite ragazzi? Passeremo la notte qui? Oppure no? E' il rischio c'è? Bella questa basilica. E' il rischio. 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 In evitaio. E' il rischio. Non è vero, non è vero. a 15 minuti guarda che bel colore verde e sbobba 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 Grazie a tutti. 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 Terra! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.